ciao ciao a tutti per la gioia delle persone che amano lo slime oggi andremo a fare lo slime sperando sempre che mi riesce non vi prometto niente iniziamo ci serve una ciotolina è un qualcosa per girare noi andremo a bussare la colla magari la verso tutta e poi ci vediamo dopo purtroppo tutta la colla che è uscita è uscita poco e quindi vorrei dire che andiamo a fare poco adesso aggiungiamo la schiuma da barba ok Poi andremo a inventare il colorante marrone, dire di sì, lui si è seccato, bella, andremo con il verde. Speriamo che non si è seccato anche questo, se no sono questo che faccio, andiamo solo con il glitter, forse perché diventa rosa poi. Andiamo ad aggiungere l'acido polico sciolto in acqua. Solo poco a poco. Un altro pochino. 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 quindi vedete che lo slime si incomincia a staccare dalla ciotola ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo style mi è riuscito, solo che era poca colla e non... Andiamo a mettere un po' di attenzante e vediamo che cosa succede. Andiamo a mettere un po' di attenzione. Vi attaccate tutte le mani. Come un po' di attenzione. Andiamo a mettere un po' di attenzione. Vi attenzione. Vi attenzione. Vi attenzione. Magari ci vediamo dopo quando ho finito di pulire... Ecco lo slime. E' venuto però è venuto un po' di liquido, non lo so perché. Ecco qua. Ma io voglio andare a fare... Voglio andare ad aggiungere questo slime che ho fatto nel video. Vediamo cosa succede. Vediamo. cosa succede. Vediamo. Vediamo. sta combinando un pasticcio comunque niente è diventato così perché quello la più rosa era più diciamo più di spugna e allora è diventato proprio nello stesso modo niente questo era il video se vi è piaciuto mettete sempre un like se questo video raggiungo un sacco di like lo vado a fare con la colla trasparente mi raccomando sempre like spero che vi abbia tenuto compagnia io vi saluto un bacio a tutti ciao ciao